Cari che ascoltate, la temo di mia cilesspera prelego è spritezzo. Chi è questa spritezzo? Spritezzo non è un amusaggio, ci è anche un più serioso scienzo, che in tutto scienzo ci postura lunga, daura, pazienza studiata, explorata. Miai esploristoi pre-spritezzo, dunque miai spritologoi, che è il nome minimale gassos, dimostri senza una lingua, che è spritaggio, che possono classificare diversi gradi. La più semplice di un'imperazione di un'imperazione di un'imperazione, è la fine racconta della due su due, che ha dato, che ha dato, rinconcire a sostrati, che un'imperazione di un'imperazione, che sia un'imperazione di un'imperazione di un'imperazione, «Pardonum, mi credis che vi irrasfiscapti!» Viene questa divigata e riunita. La unua grado di sputezzo è sia linea ira, linea e rara, una dimensia, che irra da un nuovo punto al un certo punto, recto, pazzo e cotidio. Sentiamoci le spruzioni di modificazioni e evoluiamo in diversi gradi. Il è il duo grado che fa riche a Siena. «C'uvi irrasfiscapti?» «C'uvi irrasfiscapti?» «Iasmi irrasfiscapti!» «Pardonum, mi credis che vi è stata sordolo!» «Il coefficiente del rumore è stato sempre più alto nella due grado di scrittà, nella unua grada. C'uvi senti stia?» «I'è la tria a grado, la racconto farei gius!» «C'uvi irrasfiscapti?» «Non, come ho?» «C'uvi era» «C'uvi irrasfiscapti, se c'uvi irrasfiscapti!» «C'uvi irrasfiscapti?!» «C'uvi irrasfiscapti!» «Mi è il ragazfiscapti!» «La tria a grado!» «Do quindi, se, il trì dirsi si era un'unica » «amusede speranza!» La pelle alt-nevela in categoria, nommata la quina graga. Rafforzati un esempio, ma usare la femme connata e il mondo connata. Raccontano della due suor d'uolo, che ha il rischio di raccontare su strati, e uno diceva a lei. Chiui? He! Chi è vi è stasdo? Mi chiamo è stasfischcaptanta! A presto! A presto!